buongiorno a tutti ragazzi che ci vedete in questo nuovo video della xcraft ecco occhi allora ragazzi oh ehi ah ah no scherzavo comunque come vedete guardate quante cose che ho ho vinto i miei amanti 4,4 di copper 64 di oro giusti guarda quanto tin e guarda quanto ferro perchè tutto questo perchè tutto questo grazie a questo scusate un attimo questo trucco qua tenete per tu ok sta prendendo anche il query che è già finito ulalala no sto ancora scavando no ha finito come vedete qui ho messo il trucchetto di quelle cose lì come vedete ho messo questi cose qua e sono la cosa più utile che si potrebbe trovare lag ok ora abbiamo tutto ok come vedete ho fatto una backpack e ora torniamo qua ok eccoci arrivati ok questo video facciamo un bel questo cosa qua inizieremo ad usare il senamento cioè metteremo una legna che inizierà a un cosa che inizierà a fare molto ma molta legna ragazzi dove lo mettiamo io direi proprio di metterlo qua sotto qui abbiamo cavi abbiamo tubi abbiamo sì direi che questo posto è perfetto tanto sono solo due macchinari intanto dovrò allungare tutto quanto facciamo dopo tocchiamo qui due copetti li ci lascio di sopra e spettate metto questo qua giù ok ok cosa facciamo iniziamo subito facendo iniziamo subito allora vi dico già che serve molto diamante no ma moltissimo copper moltissimo quindi quindi non fatto prima bene fare quelle robe allora ci saranno due macchinari due macchinari molto importanti il primo è la il carpentiere quindi ci serve una macchina resistente quindi 3 4 5 6 6 14 quindi 14 di quello lì e poi 14 più altri 8 fanno 22 quindi stiamo facendo subito 22 di bronzo quindi quindi come facciamo prendiamo subito uno stacco di copper uno stacco buona uno stacco di chi? ok andiamo qui quanto lagga facciamo subito così e facciamo così facciamo subito 2 facciamo subito 2 facciamo così facciamo così allora andiamo la carpentiera e ci servono due vetri più altri 3 vetri quindi tutto fanno 5 vetri cinque vetri cinque vetri cinque vetri cinque vetri cinque vetri ok 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 facciamo uno così ecco qua e poi un altro così ci serve no non dormi che mi sono dimenticato no ah oro infatti ok facciamo uno cosi ecco qua ecco qua e poi un altro cosi ci serve no non dormi che mi sono dimenticato no ah oro infatti però se mi serve me la prende ok facciamo così facciamo 1 2 3 4 e 2 qua facciamo così ok prendiamoli subito senza discutere andiamo a prendere 2 cubi no ho dato 2 ok facciamo così facciamo così adesso iniziamo ad avere pure legna infinita ragazzi è veramente una roba molto bella molto carina molto bella più avanti li sposterò mettiamo uno qui e uno qui bisogna già caricarsi ci servono i fogli di carta cane di bambù di pagina c'è ne ho mancano solo i fogli di carta prendendo il foglio di carta non ha nessun problema nessun problema ho anche la stramacrice guarda come salto lungo guarda come salto lungo nooo ok guarda come ruota bobbond bella e lo dice ma vediamo se mi bastano che figata la casa da sopra è veramente figa come vedete qui c'è la stanza di pollos che devo iniziare il cane di bumbu cazzo ce l'ho fuori ho paura che arrivo a qualcuno e mi dice mamma mi sta calando no ce l'ho detto ma sapere dove cavolo mi hanno messo i miei cane di bumbu cazzo ce l'ho due oh però c'ho carta vabbè facciamo altre foglie stiamo così facciamo così e facciamo così andiamo ancora ok abbiamo 15 metterli senza discutere giù da basso ancora la scavattrice poi se li metterli qua distruggiare tutto ok dov'era? eccolo qua mettiamo subito un po' di foglie sono qua no dov'è che si mettono qua no si mette qua si mette qua allora non esiste nessuna allora non è stato trovato nessun antietto corrisponde per nessun altro punto what the fuck ho capito allora qui cosa dobbiamo mettere? noi adesso dobbiamo fare subito delle robe del genere vediamo se le trovo no arboretto dobbiamo fare i circuiti stampati piccoli quindi prendiamo subito e siccome ce ne servono ci servono aspettate ci serve anche una roba del genere vediamo quanti ce ne servono due quindi mettiamo 6 di aspettate non mi ricordo questo qua cos'è? tin 2 di tin quindi no 2 di tin e 6 di pietra rossa ok e 6 di pietra rossa guardate guardate questo cos'è? serve 7 no 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 ragazzi piove sono in camper e piove come una merda piove come una merda qui in Croazio ok dai che disco non no ah no dai bastardo ah questo qua non ne metterà la città aspettate che circuito sta batte se diventa la sattina ah bisogna mettere la mannaggia mannaggia ragazzi sono in pirla sono in pirla sono in pirla sono in pirla proprio pirla ma si è detto con tubo pieno di acqua? mmmm a meno che non ci no spero solo che non ci mangiano un po' di secchi quindi facciamo così ok 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 uno un altro un altro un altro un altro un altro ah un altro non ci fa un cazzo questo bastardo non ci fa un cazzo raga forse servono di risorse per effettuare le producce ho capito perchè raga ho capito what the fuck what the fuck what the fuck come vedete la signora un anderman che si sta uccidendo ok un altro ragazzi abbiamo finito abbiamo finito ok la carta non sono servito un cazzo la carta non so perchè ho fatto la carta perchè non sono quella bevo la ragazza ragazze lasciamola qua lo stesso ora qui ho fatto questi due io devo fare ora andiamo qui che ne servono? questi qua come vedete ce ne fanno quattro però noi ci serve devo farne altri no ok ne prendiamo subito cinque diamanti allora aspettate ok cinque diamanti e due di pietra rossa cinque diamanti e due di pietra rossa e poi e poi cinque allora cinque ferri no cinque oro cinque diamanti e quattro di pietra rossa e poi e poi un e poi cinque vedete uno due tre quattro cinque ok ok uno due tre quattro cinque uno due tre quattro poi vetro sei di vetro uno due tre quattro cinque poi, quello che dobbiamo fare, intanto facciamo strada qua, dopo dobbiamo fare due macchine aeree resistenti no, devo fare il carpintiere, non il carpintiere, l'arboretto, se hai visto che dobbiamo fare, quindi altri, 8 di ma... no, 16 di bronzo, quindi altri 16 bronzi ciao, belle cose, quindi altri, quindi 8 per 2, 16, ok facciamo così, 1, 2, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, poi perché non ci vengono fuori, perché non ci vengono fuori, perché non ci vengono fuori, perché non ci vengono fuori andiamo subito a vedere il motivo, quindi cosa bisogna fare, ah, ora facciamo così, mettiamo un po' di vetro, eccoli qua, 4 di questi qua, ora per fare quelli diamante, eccoli qua, quindi ho fatto un casino per niente ragazzi, ora, andiamo su di sopra, qui, non c'è da spegnere niente, ok, madonna questa pioggia ragazzi, perché oggi devo appoggiare che devo fare questo video, vabbè, niente, ma anima un arboretto, se non taglia legna, adesso ci manca l'arboretto, facciamo così, facciamo così, facciamo così, sì, l'arboretto, mettiamo l'arboretto ecco fatto ragazzi, prendiamo questi qua, perché ovviamente li farò andare a questi tubi qua, aspetta la telescavatrice, posso anche metterlo giù, perché tanto non mi serve più, neanche questo, neanche questo, ok, comunque, come vedete abbiamo questi qua, abbiamo questo, abbiamo, ehm, 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 io non userò uno, quindi gli altri tubi che sono metterli via, ok, io non userò uno, e ci servono però tre tubi, per cui ovviamente li collegherò, uno, due, tre, e la chiave ce l'abbiamo dietro, quindi andiamo subito a vedere dove potrete posizionarla, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere, oh, eh, oh, eh, toglietti i vecchiotti, ok, ovviamente adesso qui, eh, farò il buco, che ragazzi, eh, iniziamo subito a mettere giù sto cosa, io direi di metterlo, scommigli dice il cosa, sperando che dopo, hm, no, siamo troppo vicini, mettiamo così, come dopo mi scava, a mano sua, facciamo così, facciamo così, facciamo così, 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 facciamo così, bué vecchio, così, così, e così, ok, iniziamo subito a piantare le robot, prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo, prendiamo questo, perché cosa tutti i miei tubi, bu, quindi facciamo così, ora li dobbiamo girare, ma perché, bastarda, non ti voglio io brutto questo, non ti voglio avere, bene, bene, sei brutto, però, non mi serve, ok, abbiamo girato, ma così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, ora, vediamo in quanto tempo si carica, si vuole essere già pieno, uè, oh, 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 non mi serve, mi, madonna, quanto vado, devo dire, ok, vediamo, proprietario, io credo sempre, privato, risorso insufficiente, ovviamente, adesso non c'è un sito, aspettate, faccio così, prendo la chiave inglese, e lì sotto, giramolo, in modo che è arancione, arancione, ovviamente qui adesso va, ah, ah, cioè, va da dio, cioè, va veramente forte, inizia a scavare, per intanto, vedete, lui inizia a scavare, inizia a scavare, perché dovevo poter inventare gli suoi oggetti, inizia a scavare, è anche veloce, è veloce, andiamo, torniamo dentro, sono senza, ho scendiato, andiamo subito, quindi cosa ci serve, dobbiamo portarsi dietro, sabbia, se non abbiamo sabbia, abbiamo roccia, se non abbiamo roccia, comunque sabbia, quanti ce ne abbiamo, no, non è sabbia, sabbia, ok, basta fare così, ci serve la palla di minio, pietra di minio, palla, chiamo palla, sono pallero, sono veramente pallero, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così, e facciamo così, poi, cosa ci serve? ci servono i, 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 ci servono i bastoncini, ma i bastoncini, i piripolini, i questi qua, gli arboscelle, ne abbiamo 42, vanno bellissime, perché tanto dopo vengono raccolti, poi, mettiamo in questo, no, questo non vanno qua, prendiamo qua, questi, prendiamo dei tubi per oggetti, un tubo di ferro, una cassa, una cassa, una cassa, una cassa, una cassa, subito, facciamo subito una bella cassa, una bella cassa, questi qua, possiamo metterli via, poi, eeeh, come si sapeva, ah si, eeeh, allora ci serve, andiamo a prendere, aspetta, facciamo così, le vostre, le seguite, prendiamo delle le, prendiamo della, della terra, ok, mi ha preso un botto, dobbiamo fare l'humus, che è una terra, che è molto, è 10 volte meglio della terra, diciamo, dobbiamo fare l'humus, bisogna fare così, o fare così, adesso non mi ricordo bene, no, è l'ingontrario, ora, aspettate, dobbiamo mettere intorno alla terra, e immagino un humus, si, un, no, un anniculite, aspetta, un humus, no, humus, no, con l'acca, no, ecco qua, humus, con la fertilizzante, no, ah no, con la niculite, e poi qua, con, facciamo, eh si, vabbè, con la fertilizzante, come si fa, con, con la patite, e, ecco, cos'ha, no, aspettate, con la patite, intorno a sabbia, ecco, aspetta, intorno a sabbia, cos'ha, nicolite, apatite, nicolite, apatite, nicolite, apatite, nicolite, apatite, cazzo, andiamo a prendere, ragazzi, in gratta, in gratta, in gratta, della, apatite, dell'apatite, 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 aspetta, ma non, ma c'è scritto che si poteva fare anche un altro, un'era, cioè, non solo con, allora, o con il, con il compost, come si fa, no, col grano, ne sprecheremo, cioè, ne sprecheremo, troppo ne sprechiamo di grano, comunque, io voglio farlo come, come, salpiter, come si fa, salpiter, con il miei, Ok, vado a prendere subito della patita Ragazzi fate subito compirla a mettere quella roba lì Ma non so già cosa si serve la sabbia Facciamo così, facciamo così Facciamo così Vediamo tutto quello che ci viene Ui vecchio, ce ne vengono troppo Facciamo così, facciamo così Terminiamo tutta la terra che abbiamo E facciamo tutto l'humus che possiamo Ah, finalmente humus Humus e humus Ui abbiamo dormito Ui abbiamo dormito Ok, andiamo subito a posizionare cose senza trovare creeper nelle palle Pensiamo a trovare creeper nelle palle E lì abbiamo un bel creeper che voleva fare Ma facciamo il boom Guardate qui come è scavato Vecchio Cazzo ci manca terra per mettere attorno Non importa, non mi importa Un bel cavoluccio Però io voglio subito iniziare a piazzare queste cose A piazzare queste cose Cosa dobbiamo fare? Allora mettiamo una roba che fa così Facciamo lo cesto E legno E legno E legno Così Facciamo così Poi lo voglio che faccia Così Mettiamo un tubo di ferro qui Facciamo così Aspetta che non c'è un mio creeper Ok, facciamo così Facciamo così Facciamo così Ora Vediamo se è tutto giusto Allora Quindi dobbiamo fare Così Va bene Qui dobbiamo fare Quello che non sto per l'inglese Ce lo fa Ok Facciamo Così No così No così No così Ok Così non lo potevo Dentro la cesta Ora Cos' dobbiamo fare? Andiamo Cosa dobbiamo mettere un po' di cose Sabbia Come una tantissima roccia E Meglio che faccio Fuggire la sabbia Così fino a tre pietre di minio Ma secondo che la vita Ando in grotta Non c'è nessun problema Ecco qua Andiamo qui Ora Andiamo qui Mettiamo Tutta La sabbia No Non servono più risorse Per sottotitare Eh sì Se ne facciamo così Se ne facciamo così Se ne facciamo così Se ne facciamo così Andiamo ancora a mettere Ok Se ne facciamo così Ok Stai benvenuti Se ne faccio Vediamo No Non si può mettere Ok Ora Inizierà a piantare E' veloce Solo che con i magmotic Li cose Non è proprio vero niente Quindi Secondo che Ok Buon finito Facciamo così Facciamo così E inizia a piantare Come vedete Ora Dovrò Renderlo così Carino Buttare Il raggio Tutto dentro Sui mie cacchi Ok ragazzi Tutto quanto E' tutto un continuo Qui avanti Faremo Quello delle legna Avanzato Che praticamente Fa già tutto Quindi ragazzi Per questo è tutto Mettete un mi piace E ciao ciao